La comunità europea, l'Eurogruppo, non è riuscita a varare gli Eurobond, ribattezzati, visto il periodo drammatico che stiamo attraversando, Corona Bond. Bene, a dire di no, sono stati, tra l'altro gli Eurobond erano stati auspicati recentemente anche dal nostro, questo è un orgoglio nazionale, genio Mario Draghi, nei confronti del quale l'alagarde è una, come dire, è una, vabbè, non faccio paragoni per bontà, per compassione nei suoi confronti. Dicevo, hanno detto di no, alcuni paesi del nord, dell'Europa, della comunità europea e dell'est non c'è da stupirsi, ma anche e soprattutto i tedeschi. Allora, io vorrei un attimo ricordare come hanno inciso i tedeschi sulla storia degli ultimi cento anni. I tedeschi hanno provocato la prima guerra mondiale, i tedeschi hanno provocato la seconda guerra mondiale, i tedeschi hanno sterminato sei milioni di ebrei nelle camere a gas, e i tedeschi ancora oggi hanno questa loro arroganza spietata, oggi in termini economici, ma sempre quello che riconsiderarsi una razza superiore. Quel criminale con i baffetti, diceva Ariani, ancora oggi si sentono superiori, non possono cedere al prestito nei confronti dei poveracci, per carità. Allora, oltretutto, se poi si considera il fatto che, come pare ormai accertato, il paziente zero di questo maledetto coronavirus è un tedesco, e lì veramente i coglioni girano proprio in maniera vorticosa. Allora, il paziente zero di questo maledetto,